E' stato illustrato a Roma nella sala conferenza della Camera dei Deputati il programma della cerimonia di inaugurazione del ponte di Calatrava di Cosenza, fissata per il prossimo 26 gennaio. Una delle più grandi opere pubbliche italiane dell'ultimo decennio si fa al sud e per di più in una città di provincia. Cosenza diventa perciò simbolo di tutte le province d'Italia, locomotiva di sviluppo e non più carrozza secondaria. Io credo che l'Italia sia soprattutto provincia, fatta da grandi metropoli, ma è fatta soprattutto da provincia e nella provincia è la grande sfida sulla qualità della vita. Questo ponte è il simbolo di una provincia che cresce e che vince e di un sud su cui si deve, non si può, si deve investire perché è in grado di realizzare gli investimenti. Le grandi infrastrutture significano capacità di progettare il futuro, significano investimenti, significa soprattutto in una condizione come quella del ponte recuperare una periferia, riportarla alla vita e riportarla a centrale. Quindi è l'impegno proprio sulla riqualificazione delle zone più degradate. Il ponte di Calatrava è anche simbolo dell'Europa che, partendo dal sud e delle sue infrastrutture, guarda verso le nuove economie del mondo per generare una sorta di nuova via della seta. Il sud è tradizionalmente, nei secoli, stato il ponte dell'Europa verso Asia e Africa. Oggi per tanti motivi non lo è stato più, cioè il sud è diventato una specie di tappo dell'Europa verso Asia e Africa. L'Europa ha bisogno di riproiettarsi verso Asia e Africa e quindi ha bisogno del sud, ha bisogno di infrastrutture al sud che devono essere costruite come è stato costruito questo ponte di Calatrava e quindi fanno crescere l'Europa verso l'Asia e verso l'Africa. Ai numerosi giornalisti intervenuti ha portato il saluto il rappresentante della ditta Cimolai, presente anche Valerio Festi, che curerà lo spettacolo a cielo aperto e che ha svelato alcune delle suggestioni di una serata sicuramente indimenticabile. Il ponte di Calatrava è simbolo di bellezza, elemento fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico della città, ma rappresenta anche il segno di vittoria del sud, a dirlo è il sindaco a conclusione della conferenza stampa. È un segno di un'Italia che può cambiare, un'Italia che negli ultimi decenni è rimasta un po' al palo, dove non sono state realizzate opere pubbliche, ma soprattutto opere pubbliche di qualità. Abbiamo visto come le città italiane nel passato sono state così importanti per la storia del nostro paese, anche per la ricchezza del nostro paese. Dagli anni 60 e 70 in poi abbiamo rovinato le nostre città, non pensando a processi di crescita del territorio che fossero incentrati soprattutto sulla qualità e sulle opere pubbliche. Questi segni, come può essere un ponte di Calatrava, come può essere il planetario, come le piazze, tutto quello che noi stiamo realizzando nella città, sono segni importanti, perché non solo sono delle opere che cambiano la città e la migliorano, ma cambiano soprattutto le persone che vivono nella città, le rendono migliori. Si è dimostrato che in una città che ha incentrato lo sviluppo pur su carattere legato alla qualità, alla bellezza, diminuiscono i reati, crescono le opportunità di lavoro, crescono le opportunità anche di occupazione per i giovani e con questo noi vogliamo che sia il processo di crescita del territorio. Noi pensiamo che anche dal sud possa partire questa idea di cambiamento del paese, che è un cambiamento che ritorna alle origini dal punto di vista della qualità. Ovviamente non possiamo immaginare di riproporre le cose del passato, perché anche gli antichi nel loro periodo sono stati degli innovatori, sono stati dei creativi. Noi vogliamo che il processo di crescita delle città italiane, e quindi da questo parte anche quest'idea missionaria di Cosenza, sia un processo di crescita incentrato sulla creatività, sull'innovazione che produce cultura, che produce opportunità di lavoro e di occupazione per tutti. Nel corso del suo intervento, Occhiuto, supportato da circa 200 slide, ha anche illustrato con orgoglio alcuni tra i più importanti risultati raggiunti in sette anni, spaziando tra opere completate e progetti in itinere.